Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video! C'è anche la nostra amica formiglina che abbiamo trovato ma siamo sulla realtà aumentata perché la mia casetta di plastica è piena zippa di formiche ma siamo sulla realtà aumentata della nuova app vediamo, vediamo subito, prepariamoci al nuovo dinosauro posizionato in Nord America il dinosauro della settimana è indo uno splendido triceratopo aumentiamolo, facciamo diventare più grande, mamma mia gigante questo triceratopo, incredibile c'è Ocio, il nostro cane che gli passa vicino questo è tutto, ci vediamo al prossimo video ciao